La bottiguccia dei sigilli, volta, pagina. Arte, esoterismo, occulto, crimine, letteratura e intrattenimento nel mondo del grottesco e del segreto. Mescolato, scecherato e servito in modo assolutamente, politicamente scorretto, sempre. Un sigillo alla volta, dalle lunghe camminate alle pillole oscure. Io sono il Deo della bottiguccia artistica Crack Apart e vi invito a viaggiare con me oltre ogni regola, convenzione e banalità alla ricerca del grottesco che anima questo mondo. Non mancate, se temete o se desiderate, una maledizione personalizzata. La botteguccia dei sigilli comincia la nuova stagione dell'intrattenimento, targata Crack Apart. Vi aspetto.